E' fatto il bianco sopra, no? La maglietta è nei pantaloncini. Vigliano anche a lui. La maglietta. La maglietta è dentro nei pantaloncini. Vigliano anche a lui. Ma eravamo quasi disti. Io ho visto che ha cambiato un po' il cosina. Vigliano anche a lui. 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 allunga guarda il portiere, veloce! bravo 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 bandaggio del grasso per guarda bravo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.